Cosa c'è per un palligiano come te? Due monete nella sinistra e con la destra vuoi toccarmi le tette? Eccitati, rilassati, concentrati, e che maggio sei? Un maggio che vuol darmi un bacio. Eccitati, rilassati, un uomo non ti tracchia mai. Eccitati, un uomo è un uomo, non cambia mai. Ma che cosa un rivoluzionario come te? Fai gli occhi dolci, pieghi il busto, aspetta e vedrai che... Amore, di posizione, di eruzione. E che maggio sei? Un maggio con un romantico bacio. Eccitati, rilassati, e che maggio sei? Eccitati, rilassati, e che maggio sei? Muscoli tesi e sudori vieni dai, eccitati. Eccitati, rilassati, rilassati, e che maggio sei? Grazie a tutti Un magio che vuol darmi un bacio A Johnny Dice Un uomo, un uomo, lo sai A Johnny Dice Mostra l'intesa e il sudore A Johnny Dice A Johnny A Johnny A Johnny A Johnny Grazie a tutti